Ben trovati dal Tg della mobilità. Domani dalle 15 a mezzanotte è concerto del primo maggio a piazza San Giovanni. È prevista un'ampia area di rispetto nell'area dell'evento con chiusure e divieti di sosta. Dalla mattina scatteranno le deviazioni delle linee del trasporto pubblico di zona. E per la giornata del primo maggio è previsto l'orario festivo sull'intera rete con prolungamento del servizio delle linee metro A, B, B1 e C sino alle ore 1.30 di notte. Dalle 15 saranno chiuse le stazioni Manzoni, metro A e San Giovanni, metro A e metro C. Infine da domani sul litorale torna la linea 07, capolinea alla stazione Colombo della Roma Lido e a Campo Ascolano. È tutto per questo appuntamento.